Di fronte ad una sottovalutazione drammatica della situazione dell'Italia, vedo una distrazione generale, vedo un rilassamento generale. Vorrei dire in maniera forte e chiara che l'ondata di ripresa dell'epidemia è già presente in Italia, forse non lo abbiamo capito, e che è già diventata necessaria una linea di nuovo rigore, di nuovo controllo anche su comportamenti non responsabili. Non c'è un minuto da perdere, queste le parole del rieletto governatore della campagna Vincenzo De Luca, a poche ore dalla rielezione, riguardo la nuova ondata di contagi da Covid che sta colpendo l'Italia intera. Una sottovalutazione drammatica della situazione e un generale rilassamento sono i nemici in questa lotta al virus, con paesi di nuovo fortemente colpiti a fare i conti con il gran numero di contagiati che si registra ogni giorno. Parla di una nuova ondata, già presente da qualche settimana, il governatore De Luca, che sottolinea la necessità di adottare una nuova linea di controllo sui comportamenti non responsabili. Sempre secondo il Presidente, la decisione di una riapertura totale ha esposto ed espone tutt'oggi la campagna, che per via di un'elevatissima densità abitativa registra un aumento dei contagi costante. Mi auguro che ad ora ci fermiamo, riflettiamo e prendiamo decisioni conseguenti, superando il clima di rilassamento purtroppo irresponsabilmente diffuso nel nostro paese. È il momento di riflettere e di prendere decisioni. Questo è l'appello del Governatore Campano, che invita tutti, dai cittadini e alle istituzioni, ad agire responsabilmente per ragionare il problema. Intanto, il bollettino ordinario dell'Unità di Crisi della Regione Campania mostra un ulteriore aumento dei contagi nella giornata di martedì 22. Sono infatti 156 i contagi registrati in tutta la Campania, a fronte di 4.310 test effettuati. A Torre del Greco, effettuati 40 tamponi, da cui sono emersi 3 nuovi contagiati da Covid-19. Arrivano a 44 gli attuali contagiati nella città del Vesuviano, di cui 43 in isolamento domicilare e un ospedalizzato. Da segnalare le 4 regioni certificate a Torre del Greco e le 98 in totale nella Regione Campania.